Buonasera, buonasera da Onda Tg, in primo piano subito la cronaca, ufficio politico nella casa pignorata, esposto in procura per la senatrice del Movimento 5 Stelle Enza Blundo, che si difende, è tutto lecito, ma facciamo il punto nel nostro servizio. È istituito un ufficio politico a Sulmona presso l'abitazione privata di un sulmonese ed è scattato immediatamente un esposto alla procura della Repubblica di Sulmona da parte di un altro cittadino del capologo Peligno, creditore del proprietario dell'appartamento. Protagonista della vicenda la senatrice del Movimento 5 Stelle Enza Blundo, che è accusata di aver compiuto un atto illecito ed ora si difende con carte alla mano. Un ex collaboratore di giustizia ha di fatto rivendicato il suo credito e ha denunciato la senatrice per essersi inserita strumentalmente nel procedimento giudiziario, penalizzando di fatto i creditori che da otto anni aspettano di ottenere le somme a cui hanno diritto. E nelle mie facoltà di cittadina al Senato, quella di poter eleggere uffici politici e questa operazione, così come quella eseguita all'Aquila nel giugno del 2016, è servita a impedire che un'intera famiglia venisse cacciata dalla sua abitazione, interviene la senatrice. Ho dato comunicazione dell'elezione del mio nuovo ufficio politico a Sulmona, così come contemplato dalla legge al Presidente del Senato, al Prefetto dell'Aquila, al Questore, al Comandante dei Carabinieri di Sulmona, al Comandante della Guardia di Finanza e al Sindaco di Sulmona. Nella comunicazione, prosegue Blundo, l'immobile del signor P. diveniva un bene protetto e, in quanto tale, scevero da ogni possibilità di intromissione da parte di terzi e da atti di esproprio. Il fine è stato quello di tutelare un padre di famiglia, vittima di usura, che aveva già il diritto di essere risarcito dallo Stato e non trevo giusto che i ritardi burocratici penalizzino i suoi carichi, costringendoli ad uscire di casa. La senatrice si dice dispiaciuta anche per il creditore del Sulmonese e entrambi hanno il diritto di avere giustizia, conclude. E intanto il caso finisce in tribunale. Fermato in piazza Garibaldi a Sulmona da in escandescenza un 35enne rumeno è finito in manette. Sentiamo i particolari nel nostro servizio. Infila le mani in un'auto parcheggiata in piazza Garibaldi, una volta fermato, aggredisce Polizziotti. Un cittadino rumeno di 35 anni è stato arrestato per esistenza pubblico ufficiale. I fatti risalgono alla tarda serata di ieri, quando un equipaggio della squadra volante del commissariato di Sulmona ha notato un individuo di sesso maschile che con fare furtivo si aggirava tra le auto in sosta in piazza Garibaldi e trovando il finestrino lato guida aperto introduceva le mani in un'autovettura che aveva il motore acceso. L'uomo esserò subito fermato e reagito in maniera aggressiva alle richieste degli agenti di fornire un documento di identità e i documenti dell'autovettura della quale aveva le chiavi e che dichiarava essere di un proprio conoscente. Il giovane ha continuato a mantenere lo stesso atteggiamento nei confronti degli operatori di polizia anche all'interno del commissariato dove è stato condotto per accertarne l'identità rendendo difficoltose le operazioni di identificazione. Da qui la decisione dell'arresto per esistenza pubblico ufficiale. Il giovane è stato anche denunciato per violenza, minaccia e oltraggia pubblico ufficiale, nonché per rifiuto di fornire le proprie generalità e per inosservanza di provvedimenti dell'autorità. Su disposizione del procuratore Stefano Iafolla, il 35enne, è stato associato alla casa di reclusione di Via Lamaccio. Ora è la pagina del commercio e dell'economia. In arrivo l'ordinanza salva degrado dei negozi sfitti. Il provvedimento sarà varato nel mese di settembre e se ne condano 39 dall'arco di Porta Napoli a piazza Carlo Tresca. Sentiamo meglio. Con un'apposita ordinanza il comune di Sulmone intende obbligare i titolari di negozi sfitti che ricadono nel centro storico a mantenere ordine e decoro, pena e la sanzione amministrativa. E quanto annuncia un DG l'assessore comunale alle politiche del commercio Cristia La Civita dopo il report sui esercizi commerciali sfitti. Se ne contano 39 dall'arco di Porta Napoli fino a piazza Carlo Tresca, di cui 28 solo nella zona sud ricorso video, da Porta Napoli a piazza del Carmine. Dei 39 non sono pochi coloro che sono stati lasciati in baria del degrado. Da lì l'azione è intrapresa dal comune di concerto con la polizia municipale per adottare delle misure tese quantomeno a tutelare l'aspetto estetico delle singole attività. Stiamo lavorando in questo senso, spiega l'assessore La Civita. È un discorso che avevamo intrapreso e poi accantonato ma che riprenderemo a settembre subito dopo le ferie estive. È proprio in quel periodo che La Civita è andata a incontrare tutti gli esercenti sia per studiare la proposta del prolungamento del mercato di piazza Garibaldi nel pomeriggio ma anche per definire le condizioni di sconto sul lato OSAP per esercendi ambulanti della piazza durante periodo di trasferimento del mercato, mettere mano al regolamento delle fiere e mercati e affrontare il delegato tema dei negozi sfitti. Un coro di sì alla proposta lanciata dal comune proprio sui negozi sfitti. Sentiamo nella nostra raccolta di opinioni. No, bisogna investire comunque per poter portare un'attività produttiva in zona. Sono molto favorevole, innanzitutto perché una persona che ha un locale da affittare non lo deve lasciare abbandonato alla merce di chi dovrebbe entrare. Chi deve entrare sta facendo già sacrifici per poter avere un'attività. Quindi non è il suo parco, è un onere che compena il proprietario del locale. Sono d'accordo. Ah sì, capisci, è un bel decoro che devono lasciare. Un turista che viene qua, vede un negozio, mi sembra un magazzino che usa il centro di tutte queste zone, non è bello una città turistica, no? Questo è il fatto che è un provvedimento che è venuto anche troppo tardivo perché erano dannesi che le associazioni di categoria si lamentavano di questo parco. Io credo che non ci sia nessun tipo di problema perché se addirittura i fondi agricoli devono essere deluti d'ordine, tanto più quelli che stanno nella immagine che si fanno i turisti. Quindi siamo perfettamente favoribili nella situazione di questo qui. Però voglio dire, al di là del lato impostivo che intubbiamente è importante per eliminare uno sconso, vale la pena di sedersi a tavolino e di fare un'altra cosa. Tempi più lunghi per l'Agenzia di Promozione Culturale di Piazza Venezuela, per il trasferimento nella sede IMSS, il consigliere regionale Gianni Chiodi interroga il presidente della regione Abruzzo-L'Oceano D'Alfonso su impulso del capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Elisabetta Bianchi. Conoscere la progettualità della regione sul ripristino dell'edificio al fine di restituirlo nelle piene funzioni nella città di Sulmona e comprendere quali servizi culturali possono essere assicurate cittadini nella sede provvisoria e in quali orari. E questo è il senso dell'interrogazione depositata dal consigliere regionale di Forza Italia Gianni Chiodi, incalzato da Elisabetta Bianchi, che sarà discussa nella seduta del Consiglio regionale in programma per domani, l'ultima prima della pausa estiva. Si allungano intanto i tempi per il trasloco dell'Agenzia di Promozione Culturale di Piazza Venezuela nella sede dell'ex IMSS. La convenzione fra Regione Abruzzo e Seduto Nazionale Previdenza Sociale starà siglata lo scorso 3 luglio, ma indicazioni precise sulla dala della ripresa del servizio in via Sardi non sono ancora arrivate. Diverse sollecitazioni sono partite dal sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, che resta fiduciosa sull'avvio del servizio nella sede IMSS per il mese di agosto. Ma il direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Abruzzo, Giancarlo Zappacosta, attende indicazioni precise dal dirigente del patrimonio. Qui la risposta la deve dare il dirigente del patrimonio della Regione Abruzzo, interviene in Zappacosta a un dati G, che ci dovrà dire quali sono le disponibilità che l'IMS ha messo in campo. Nel Consiglio regionale di domani sarà discussa anche un'interpellanza del consigliere Leandro Bracco sulla messa in sicurezza delle scuole. Postiamo a Prato-Lapelinia per parlare della scuola di Valle Madonna Cella Quiete. Dopo la tempesta tutto resterà com'è all'inizio del nuovo anno scolastico. Sentiamo i particolari. Gli alunni resteranno nelle attuali collocazioni in attesa di individuare una soluzione alternativa. Si è chiuso così l'incontro con il Consiglio d'Istituto e l'Associazione Scuole Sicure dopo le vicende legate alla scuola elementare di Valle Madonna nell'ex centro professionale. Torna il sereno fra il sindaco di Prato-Lapelinia, Antonella Di Nino, e il presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso. Entrambi a caccia di soluzioni, ma l'anno scolastico riprenderà regolarmente. Ho ribadito al presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, spiega il primo cittadino, la necessità di non poter accogliere la richiesta di lasciare la struttura dell'ex istituto professionale perché i tempi sono strettissimi e le soluzioni che stiamo mettendo in campo per le scuole escludono che gli studenti delle elementari di Valle Madonna lasciano l'attuale struttura della provincia. Alla delegazione del Consiglio d'Istituto, rappresentato dai docenti e dai genitori, ai rappresentanti dell'Associazione Scuole Sicuretaria, riprende, ho confermato pertanto che la volontà di questa amministrazione è quella di fare iniziare l'anno scolastico nelle condizioni attuali, nelle more dell'acquisto dei muspo per i circa 140 studenti della scuola materna e dei lavori per recuperare due nuove aule nelle scuole di Piazza Indipendenza e Via Colella. Dal presidente Caruso ho ottenuto la piena disponibilità a ragionare insieme sulle soluzioni da prendere dopo un'attenta ricognizione delle emergenze. Superando agevolmente le incomprensioni di questi giorni, abbiamo concordato di rivederci a stretto giro anche con il dirigente scolastico Massimo Di Paolo per trovare la quadra. Ringrazio Angelo Caruso per la disponibilità a valutare le mie richieste nell'interesse degli studenti e delle famiglie di Pratola. Buonimenza meno cari a Sulmona. Nel servizio vediamo quali sono le nuove tariffe. Buonimenza meno cari per alunni e famiglie. Le domande per avere buonimenza e relativi sconti sono aperte e scadranno il prossimo 31 ottobre. Le nuove tariffe sono state determinate nella delibera numero 34 del 30 marzo 2017. Fino a 6.000 euro di reddito ISEE la mensa resta gratuita. Dai 6.000 a 7.000 euro si pagherà il 10% anziché il 15 di prima. Dai 7.000 agli 8.000 euro il 15% anziché il 20. Dagli 8.000 ai 10.000 euro il 25% anziché il 30 fino a 9.000 e il 40 fino a 10.000. Dai 10.000 ai 12.000 la tariffa sarà del 40% anziché del 50, dai 12.000 ai 14.000 del 50% anziché del 60, dai 14.000 ai 17.000 del 60% anziché del 70, dai 17.000 ai 21.000 e 65% finora si pagava l'80% fino a 20.000. Dai 21.000 ai 26.000 del 70% a fronte del 90% pagato finora fino a 25.000 euro. Per i redditi ISEE superiori ai 26.000 euro viene inserita una nuova fascia di esenzione. Fino a 30.000 euro si pagherà l'80% a fronte del 100%. Tariffa piena invece per quelli con reddito ISEE superiore ai 30.000 euro. Prime tensioni in seno al nuovo consiglio provinciale fra il segretario provinciale EPD Mario Mazzetti e il consigliere provinciale di maggioranza Mauro Tirabassi. Si va allo scontro. Facciamo il punto. Emergono sin dalle prime attività e delle prime nomine tutte le contraddizioni di una maggioranza costituita da una mucchiata dove sono confluiti oltre alla destra la maggioranza e la minoranza di Avezzano nonché gli uomini del riferimento dei quattro consiglieri regionali del governo di centro-sinistra. Ad affermarlo è Mauro Mazzetti, segretario provinciale EPD, che accende la polemica sul nuovo assetto che si è delineato in provincia. Abbiamo scelto di assumere una posizione di minoranza in consiglio provinciale, una minoranza ferma e responsabile che entrerà nel merito dei singoli provvedimenti. In relazione ai primi atti assunti dal neopresidente della provincia siamo sempre più convinti della giustezza della nostra presa di posizione tesa a garantire chiarezza e coerenza politica, spiega il segretario provinciale DEM che riprende. I risultati delle elezioni ci hanno dimostrato che se il centro-sinistra fosse rimasto unito e i consiglieri regionali del PD avessero fatto il proprio dovere sostenendo la nostra lista avremmo potuto vincere anche con un nostro candidato presidente. Non ci sta a subire le accuse il consigliere provinciale di provincia insieme, Mauro Tirabassi. Forse un segretario provinciale che non riesce a presentare un candidato presidente, non riesce a garantire l'unità dalla sua parte politica, arriva terzo su tre liste, non viene eletto personalmente raccogliendo un misero consenso, dovrebbe trarre le conseguenze del suo disastro politico e più che parlare dovrebbe avere il coraggio e la dignità di dimettersi, interviene Tirabassi che non usa mezzi termini per dichiarare che il segretario provinciale PD Mario Mazzetti sembra la ricerca della pagliuzza nell'occhio altrui, non vedendo la trava nessuno. Poi arriva la rassicurazione. Lo tranquillizzo, chiosa il consigliere provinciale e comunale. La maggioranza in provincia non ha alcuna contraddizione e sta cominciando a lavorare sugli argomenti più caldi che caratterizzeranno questi anni di amministrazione. Il Bancomat va fuori uso tre giorni di disagi a Campo di Giove, un disservizio che si è risolto proprio questa mattina. Vediamo. Sono rimasti senza soldi da tre giorni i turisti di Campo di Giove dopo il guasto che si è verificato al macchinario Bancomat. Un disservizio risolto questa mattina dopo la sollecitazione degli amministratori comunali che hanno raccolto le segnalazioni da parte dei turisti. Nell'era digitale, in un mondo sempre più proteso all'innovazione, succede anche questo. I turisti sono stati costretti a scendere fino a Sulmona per il prelievo dei contanti, indispensabile per sostenere le spese legate al soggiorno turistico. A denunciare di servizio l'ingegnere Carlo Maria Speranza. Da tre giorni i turisti senza soldi denuncia Speranza perché in un mondo telematico interattivo di commerce e di moneta elettronica una disfunzione al macchinario Bancomat lascia i turisti senza contante costringendoli alla commissione ben superiore a quella bancaria di un rabocco di benzina verso il Mona per il prelievo del contante. Una vicenda però che si è chiusa con un lieto fine. In questi giorni il centro montano è preso sotto assedio dai turisti tanto per il fascino di Campo di Giove quanto per le temperature decisamente più gradevoli. Del Morrone quest'anno è anche Festival partenza il 16 agosto dall'eremo di Santo Onofre. Domenico Berlingeri. Accompagnata da teatro, musica e tanta festa prendere il via il 16 agosto prossimo la 38esima edizione del Fuoco del Morrone che da quest'anno diventa Fuoco del Morrone in Festival. Per la prima volta la staffetta che da Sulmona all'Aquila porta la fiaccola della pace nel nome di Celestino V organizzata come ogni anno dal Movimento Celestiniano dell'Aquila nell'ambito della perdonanza acquista una nuova veste grazie ad alcuni eventi che si terranno nelle principali tappe la cui direzione artistica porta la firma di Loredane Enrico del Teatro dei 99 ad Acciano, Villa Sant'Angelo, Castelvecchio, Subeco, Bagnaturo e naturalmente Sulmona e l'Aquila l'arrivo del Fuoco del Morrone sarà anche l'occasione per offrire ai partecipanti un momento di meditazione ed entrare nel clima della perdonanza celestiniana. Quest'anno inoltre l'evento tornerà a far rivivere l'antico Cammino del Perdono sui passi di Celestino un'esperienza di cammino a piedi aperta a tutti durante la quale poter scoprire passo dopo passo i luoghi più belli e nascosti dell'Abruzzo interno nonché fare esperienza di amicizia con i pellegrini in viaggio lungo analoghi percorsi di fede e spiritualità come il Cammino di Francesco La fiaccola, simbolo di pace e fratellanza tornerà a percorrere le tappe principali del Cammino di Celestino V partendo il 16 agosto dall'eremo di Sant'Onofra a Sulmona dove alle 18.30 si terrà la cerimonia religiosa con l'accensione del fuoco nella grotta che ospitò il Santo per arrivare il 23 agosto all'Aquila per l'accensione del Tripode della Pace dando il via alla 723esima perdonanza celestiniana In questa edizione del Fuoco del Morrone saranno tutte donne i tedofori che porteranno la fiaccola lungo il cammino in continuità con il tema La Donna nella Storia che caratterizza questa edizione della perdonanza Il Fuoco del Morrone che dà inizio alle celebrazioni dell'annuale perdonanza celestiniana spiega Florio Panti, presidente del Centro Internazionale Studi Celestiniani è un momento fondamentale che ci introduce al clima di pace e fratellanza che volle creare Celestino V istituendo la perdonanza Area di festival, il Montaningezza arriva a Sulmona con Fabrizio Bosso Vediamo A Proda Sulmona è il festival del Montaningezza con il concerto di Fabrizio Bosso in programma domani sera alle ore 21.30 in piazza Garibaldi Il cuore del festival, giunto quest'anno la sua indicesima edizione è proprio piazza maggiore Il ricco cartellone degli eventi è partito lo scorso 22 luglio a Bugniara e terminerà il 25 agosto ad Anversa degli Abruzzi Il club però resta la location di Sulmona Si comincia con due serate di livello Domani tocca a Bosso Altro Big è Nicola Piovani che si esibirà il 12 agosto alle 20.30 sempre in piazza Garibaldi Occhi puntati anche sull'attore comico sulmonese Gabriele Cirilli che porta a Sulmona il suo spettacolo tale quale Ovidio Appuntamento è il 16 agosto alle 21.30 in piazza Garibaldi Un momento fortemente evoluto dalla Diemsidere d'Amore inserito nel festival L'Issichitara Orchestra si esibirà il 17 agosto in piazza 20 Settembre Immancabile la due giorni dedicata a Piano Piano per Sulmona in programma il 18 e il 19 agosto Anche per i Montani Jets sarà adottata la circolare del Ministero dell'Interno con tutte le novità in materia di sicurezza Fra musica folle ed emozioni il festival arriva nel capoluogo Peligno Intanto il pittore Peligno Francesco Svizzero espone a Corfinio Gaetano Trigiglio Il pittore Peligno Francesco Svizzero espone a Corfinio Si tratta di una personale che abbraccia un ampio arco di tempo della produzione del pittore Prezzano Una quarantina alle opere esposte nel Museo Civico Archeologico di Corfinio e saggiamente collocate con un crescendo che individua il percorso artistico di Francesco Si parte dal figurativo, poi il realismo, verismo per giungere poi al surrealismo e con punte avanzate di astrattismo La continua ricerca documentata nella mostra rivela l'iter artistico del pittore Il pittore comincia sempre dal realismo, dal copiare qualcosa insomma però il copiare va bene fino a un certo punto perché bisogna trovare qualcosa di diverso nella pittura qualcosa di originale Sono molto amante della natura, per cui a un certo punto i miei dipinti provengono sempre dai effetti naturali, fiori, campi di fiori, montagne, eccetera che la natura in un certo senso ci parla, ci parla in silenzio e dopo sono attratto anche da effetti cosmici Qualche giorno fa l'inaugurazione è presente il sindaco di Corfinio Massimo Colangelo ed alcuni pittori peligni tra cui il Nestore Presutti Sono soddisfatto di questo momento e anche di questa collaborazione come dire territoriale Nella pittura dell'artista Prezzano notiamo esplosioni di colori Qual è il significato? Se i dipinti hanno qualcosa di originale un dipinto diventa come una fiaba perché i colori cercano di dare a un certo punto quella gioia della vita che serve a un certo punto a tutti noi per andare avanti perché la vita riserva purtroppo anche cose desgradevoli ma osservare un quadro a colori, con colori vivaci a un certo punto è sempre qualcosa di gioioso La rassegna chiuderebbe attendi il 15 di agosto E ora il calcio con la Morronese sono stati ufficializzati gli innesti Domenico Berlingeri La Moronese conferma il blocco delle due promozioni di fila dall'esperto Torre al bomber liberatore integrandolo con elementi validi per il campionato di prima categoria Si presenta così la nuova squadra che comincerà la preparazione giovedì 17 agosto a Bagnaturo agli ordini del tecnico Roberto Di Sante del preparatore atletico Roberto Tirino e dell'allenatore dei portieri Giovanni Petrella Tra i volti nuovi ci sono tre ex Goriano in promozione che erano guidati proprio da Di Sante i centrocampisti Pasquale Di Mascio classe 95, Matteo Di Bacco classe 97 e il difensore Gianluca Dante classe 97 Gli altri innesti sono gli attaccanti Lorenzo Allulli ex Virtus Pratole Luca Ianna Morelli ex Aurora il centrocampista Simone Smarrelli ex Angolana Pratole Michetti Tocco da Casauria e i difensori Vincenzo Valeri ex Ovidiana e Luca Favilla che fa il suo ritorno dopo la scorsa stagione con la Sulmonese Ofena La Moronese si adegua intanto alla novità assoluta delle divise personalizzate e ha stabilito i numeri di maglia dall'1 al 99 ecco le numerazioni difensori con il 5 Gianluca Dante con il 6 Antonio Di Cesare con il 2 Luca Favilla con il 3 Daniel Intenza con il 19 Emanuele La Civita con il 96 Antonio Pezzi con il 16 Cristiano Rosato con il 4 Vincenzo Valeri con l'88 Davide Virtuoso centrocampisti con il 28 Matteo Di Bacco con il 26 Luigi Di Cristoforo con il 23 Pasquale Di Mascio con l'11 Michele Giallorenzo con l'8 Ottavio Perona con il 7 Armando Porretta con il 21 Matteo Restaino con il 20 Simone Smarrelli attaccanti con il 13 Paolo Colabrese con il 22 Lorenzo Allulli con il 9 Luca Iannamorelli con il 99 Antonio Encani con il 10 Matteo Liberatore maglie personalizzate anche per i portieri Gianluca Torre Leonardo Musella e Alexandro Napoleone rimasto immutato il gruppo societario con il presidente Alfredo Leombruni il vice Antonio Moschetta il direttore sportivo Limpio Liberatore e i dirigenti Massimo Antolini Costantino Cianfaglione secondo Leli Castelli Ruggero Di Stefano Roberto Gentile Angelo Incani e Alessio Ravenna la società si avvarrà quest'anno del sostegno dello sponsor DEMA SRL la Moronese si appresta agli impegni ufficiali della Coppa Abruzzo il 3 settembre e del campionato di prima categoria che vedrà un girone Cia vincente grazie ai derby con Pacentro Bugnare Popoli e anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia Alvia il corso Ascom per usare i social e promuovere di conseguenza le singole attività perché l'esigenza di questo corso? perché abbiamo recepito il bisogno praticamente delle aziende soprattutto Ascom da tempo ha chiesto di portare dei contenuti che possano spingere e invogliare anche i più pigri o comunque anche semplicemente i curiosi a cominciare ad andare a capire come mai ci sono altre realtà che investono nelle campagne pubblicitarie per la vendita dei loro prodotti parecchi decine di migliaia di euro quindi un corso serve per incuriosire per far capire che anche qui in Abruzzo sul Mona e Ascom ci può aiutare a scoprire i trucchi diciamo anche perché sarà un corso molto pratico qual è il primo passo da fare? il primo passo da fare è cominciare a distinguere la differenza tra profilo Facebook che tutti lo possiamo usare come dire per divertirci per comunicare le nostre vacanze i nostri figli i nostri successi diverso è la pagina Facebook questa è una grande sostanziale differenza la pagina è per chi vuole lavorare per chi vuole fare business e oggi parleremo di questo ecco a giudicare da primo incontro che tipo di utenti ha trovato? allora la fatica non si nasconde il 10 agosto il caldo però io ho recuperato il mio campione tutto attraverso praticamente la pubblicità sulla campagna Facebook siamo in pochi? no siamo i migliori perché le persone che arrivano qui hanno capito come l'organizzazione come me che c'è veramente da lavorare possiamo aumentare assolutamente assolutamente e come ogni giovedì chiudiamo con le notizie di Zach 7 sabato 12 agosto Zach è in edicola a Sulmone nella Valle Pelinia con un numero estivo e pieno di novità apriamo con un interessante reportage sul penitenziario di Vila Maccio una struttura in fase di ampliamento dove saranno ospitati fino a 700 detenuti parleremo inoltre dell'emergenza cinghiali nelle campagne che sta creando veramente molte difficoltà agli agricoltori all'emergenza siccità all'emergenza incendi che sta invece creando difficoltà agli allevatori abbiamo un approfondimento dedicato all'autismo una patologia sulla quale si sta lavorando e qui a Pratola è stato aperto qualche mese fa il centro per l'autismo attivo con 8 assistiti abbiamo una pagina sportiva non vi voglio anticipare ma abbiamo una pagina sportiva dello sport molto ricca le nostre rubriche di cultura interessanti e curiose notizie dal circondario a Torre dei Passeri sono state scoperte delle tombe al cimitero senza proprietario non vi sveliamo altro il comune sta prendendo delle iniziative abbiamo vi parleremo degli itinerari e delle visite guidate nell'acquedotto delle Uccole a Raiano un percorso immersi nella natura e nella storia e poi in ultimo ma non per ultimo perché abbiamo tante altre novità che leggerete insomma abbiamo Zac ha mandato un'inviata al festival di Vasto il Sardin Festival che il Corriere della Sera addirittura ha denominato la Woodstock d'Italia e vediamo che cosa ci racconterà la nostra inviata a Vasto allora vi aspettiamo sabato in Edicola sabato 12 agosto e buon ferragosto a tutti voi è davvero tutto per questa edizione Onda Riggi torna domani grazie per essere rimasti con noi a tutti voi lascio la buona serata arrivederci grazie per la visione